La compagnia di Alberto Cassani dell'azienda agricola Cassani Bio. Alberto, voi avete scelto di mantenere una conduzione a livello familiare. Perché questa scelta? Noi abbiamo scelto di mantenere la conduzione a livello familiare per cercare di mantenere un'altissima qualità dei prodotti e quindi seguire di persona tutti i passaggi produttivi dalla coltivazione, quindi dalla coltivazione di ortaggi di frutta biologica fino alla trasformazione finale del prodotto sotto forma di conserva. A proposito di prodotti, voi ne avete uno di punta che ha vinto anche un premio ad Amsterdam. Il nostro prodotto di punta è il dado vegetale biologico che non è il dado vegetale che si trova in commercio, nei supermercati o in altri punti vendita. È un tipo nomogenizzato che serve per insaporire qualsiasi tipo di piatto. È composta da verdure fresche, puntate e frullate con olio extravergine di oliva, sale rosa e erbe aromatiche nei nostri canti. Tutto questo per dare al prodotto finale un po' di cosa di diverso che ci caratterizza rispetto al classico prodotto che si può trovare in giro. E sempre da proposito di prodotti, nel 2015 ne è entrato un altro? Il 2015 abbiamo iniziato la produzione di un nuovo prodotto che è la pasta fatta con farina di legumi. È un progetto che parte un pochettino più indietro, che sta nel rivalutare dei terreni incolti che sono presenti in Abruzzo e di coltivarli, quindi dargli comunque valore, dargli una certa renditività facendo appunto legumi che sono tipici del territorio abruzzese, trasformarli in farine e produrre questo tipo di pasta molto particolare perché non contiene grano, quindi non contiene glutine, contiene molte proteine vegetali, quindi indicatissimo per i vegetariani vegani che non sono proteine della carne.